Cari amici, guardiamo al futuro. Secondo voi ci saranno più guerre o più pace? Insomma, più temporali o più sole? Vi invito adesso ad ascoltare le risposte a pelle che mi hanno dato alcune persone. La domanda è un milione e mezzo, madame. Dipende da che persone ci saranno in futuro. Dipende solo dalla generazione che verrà. Noi purtroppo, la mia generazione e i nostri figli, dipende solo da loro. E da quello che noi insegneremo a loro. Che valori gli daremo, che morale gli daremo, che etica gli faremo seguire. Se parleremo solo di soldi, allora ci sarà solo guerra. Senti, secondo te in futuro avremo più pace o più guerra? Più pace. No. Perché? Perché? Perché dici, perché sono positivi, non negativi. Più guerra. Perché? C'è sempre più discriminazione, in giro. Qualsiasi cosa succede, avviede che sono tutti contro tutti. Sicuramente ci sarà più guerra. Ma è meglio della guerra? Meglio, meglio. Accidenti meglio. Beh, è molto complicato. Ma abbiamo dei signori che stanno di sopra di tutti, che ragionano sui piedi che ti dosta con la testa. Secondo me, io spero che ci sia più pace. Certo, perché succeda questo, secondo me dovrebbe esserci un'educazione migliore, migliore, da parte dei genitori verso i figli. Per un mondo di pace, divulgherei la cultura. Bravo! Questa è una cosa eccezionale. Complimenti e grazie. Le guerre una volta si facevano con le spade, poi con i carri armati e adesso si fanno con i soldi. La ringrazio. Sempre guerra, eh. La ringrazio moltissimo, buona giornata. Confido più pace, ma nella realtà più guerra. E mi vuole spiegare la motivazione di questa sua idea? Perché purtroppo la situazione economico-finanziaria è tale che ci fa indurre in una situazione, in un possibile futuro non molto roseo. Non è facile trovare una soluzione, ma credo che tutti dovrebbero fare un passo indietro e riflettere un po' di più. Grazie. Grazie. Grazie.